Intervistato da Il Tempo, Carlo Verdone parla della sua Roma, declinata in ogni film, amata alla folliae che tuttavia ultimamente lo sta molto deludendo. Carlo Verdone infatti usa parole durissime contro la città eterna, la cui reputazione è stata polverizzata dallo scandalo di mafia capitale. Roma ora ha toccato punte di degrado mai viste prima, ammette l'attore, mentre la capitale dovrebbe essere il biglietto da visita del paese. L'elenco del degrado è lunghissimo, dalle strade poco illuminate al centro storico alla merce di ubriachi che la fanno franca perché poco controllato questi, secondo Verdone, i problemi di Roma, a cui si aggiunge la vergogna per non aver saputo impedire il dilagare della corruzione. Gli scandali sono sempre esistiti in tutte le regioni, ha ammesso, ma ora siamo andati più giù del fondo, più soldi girano, più aumenta la corruzione riflette e bisogna recuperare il senso etico. Un auspicio sicuramente condiviso dai romani. La capitale sta vivendo un momento di degrado ambientale e immorale, ma resta intacco seppur messo a dura prova l'amore di Carlo Verdone. Io amo Roma, dice, se non la massi me ne sarei già andato.